Leonardo Careppari, anche lui fa parte della squadra Lombardia, non della squadra ma individuale, ha partecipato a questa gara a Polo. Com'è stata? E' bella perché quando entri c'è tutta la gente che ti incita di fianco, il tifo, è molto bello, sembra di essere un professionista. Il tuo cavallo come è stato? Il tuo pony è entrato un po' agitato ma è riuscito ad essere tranquillo nel momento della gara. I percorsi? I percorsi oggi non era abbastanza difficile, era abbastanza facile però comunque ci si doveva impegnare. La prossima gara che fai qui? Oggi pomeriggio? No, domani mattina. E sarà un'altra? Un'altra gara di come quella come oggi. Dove monti? Da Gianluca Palmizzi, da Gianluca. Su all'allago? Eh? Su all'allago? No, non è al lago, è al Pratone. Il Pratone, sì no, vicino al lago. No. Non è vicino al lago. No. Senti, grazie mille, complimenti, ci vediamo poi domani. Ok, grazie, arrivederci.